musica classic strada boys io salto quando vedo a nord io salto quando vedo a nord prendiamoci subito quel lato cattivi raga cattivi due tre team milta power va bene raga guardate bene io non vedo nessuno si si sto guardando Washa ti puoi allargare subito se non vedi nessuno vai subito al campone più lontano tu qua a terra qualcuno dove ho messo il punto a terra qualcuno ok ok no no un nemico a terra quello intendo si 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 lo so capito ok c'è un buggy c'è cresci su buggy da qua al blu dove va non so dove vada ma sei in spiaggia 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 raga spiaggia raga che corriendo in spiaggia vuole andare a prendersi la macchina raga Washa dov'è lo vedo lo vedo raga si vuole andare a prendere quella macchina raga lo sniperiamo eh raga pronti a sparare pronti a sparare quando sale sopra io mi avvicino io punto no lo vedo a sinistra della barca sta per salire sale ora bello bello pulito è morto let's go baby bravo bravissimo bravo lomba ottimo lomba bravo così ci hanno visto mi sparano a me ora mi spareranno tranquilli uno ho notato tre volte sto sgranatando bella 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 mi sto sparando due noccati due noccati con calma raga due noccati manca l'altra a sinistra largo a sinistra largo a sinistra era l'ultimo mi pare lo vedete raga era largo a sinistra ve lo posso assicurare non mi ha guardato la mia chida ho ucciso quello noccato era a sinistra raga raga sarà qua dietro l'albero qua di frate me arrivo quest'albero sotto bravissimi lo diamo veloci lo diamo veloci davanti raga gli volete sparare 345 vai non cado compagno sopra 1530 ok continuiamo a muoverci allora è scappato ecco le muri dove voleva mandare noi non cado uno mentre l'ho noccato un altro go due noccati uno solo in vita uno solo in vita lo sta restando dietro l'albero l'ho sparato due volte continuate a pusharli continuate a pusharli noccato un altro ferito un altro tre noccati due noccati due noccati mi ha dato una kill c'è un altro regalo stanno restando lo stanno restando dietro un albero è uno solo ok no ha chiamato un altro 330 330 davanti a me mi ha noccato provo a sariarti pensavo non mi aveva visto pensavo non mi aveva visto ma ce n'era un altro no dodicesimo era da solo dovevo sparare prima devo sparare prima scusatemi scusatemi raga nessun problema comunque raga c'è stata troppo confusione sta partita ma raga ma scusate ho preso tre noc porca troia ma c'erano troppi team dovevamo pushare dentro la base militare come t'avamo detto let's go let's go boys raga terrate su queste case ok le prime tre casa garage barn e quella a tre piani dove vado sempre io macchina dietro di noi nord sta arrivando in zona tritatela scendi facciamo esplodere quello sotto quello sotto porti tutti appropiatevi di tutto raga appropiatevi di tutto come dei ladri quella quella di pochinki mi hanno sparato entro nel barn mi campero mi hanno sparato rega non so da dove da sopra pare se metto da sopra mi hanno sparato sopra sopra la collina lo stai tanto io con il fucile silenziato ok è bello passiamo a destra allora da sopra mi hanno sparato c'è un team ok ok bella 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 ho detto tre volte quello là perché potremmo dividerci due torretta sniper e due shock vogliamo andare ora subito dai io prendo la moto uno con me due sopra la torretta sniper uno sotto la torretta sniper e uno allo shock andiamo da via a destra mi spavano sparando da destra a me non posso salire io non posso andare ragazzi lo vedo da dove mi picca lo vedo da dove mi picca io rimango qua io vado nello shock uno viene verso di voi allo shock di legno shock di legno raga hitato non cado mamma mia che cazzo gli ho fatto lo vedo ancora non cado vado sopra ho sparato a uno o due volte dove dove uno nella fissa qua davanti è qua lo vedo lo vedo sta and va a salvare il compagno spaccate la cosa di legno era nuovissimo mi ha dato la kill no 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 ok l'ho ucciso regà posso provare ad andare allo shock se volete sto andando eh mi sparano daccato a me mi sparano sono morto mi devo sdraiare è dietro il trattore è dietro il trattore raga è dietro il trattore ve l'ho visto tira una flash è dietro tira un'altra flash tira una granata sta sparando quello della collina raga gli ho tirato tutto quello che potete io quasi quasi li smocco a loro ok gli tiro le smoke addosso faccio anch'io faccio anch'io ne ho tirato una eh vai bravissimo bravo ce ne è ancora uno vabbè c'è il trattore ok wash non vedo niente no sono i due sono i due sono i due sono i due ho fatto uno l'altro ho fatto go scusami wash che cazzo ho fatto no fammi andare di qua fammi andare di qua vi sparano da sopra vi sparano da sopra raga ce l'ho ce l'ho ok ne ho visto uno a destra 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 dall'albero davanti a me proprio quale questo qua sotto fatto adesso l'ho sparato non so da dove lo vedo buttato in testa ha noccato mi sto curando bravissimo bravissimo continuo da sinistra io non ho più granate un team davanti ragà non ho granate mi dovete aiutare ce l'ho davanti ma non ho cato ma non ho cato ma non ho cato tutti sono qua davanti a me non posso fare niente non posso fare niente eh cosa faccio sono da solo non posso fare niente wash hai noccato i due ce l'ho però uno no no ho noccato uno va bene non l'ho visto il secondo knock raga me lo dovete chiamare non l'ho visto il secondo knock lo sapete che c'è il bug porca droga terzo posto raga 5 kill io prendo la barca raga e poi la vediamo dopo domani io prendi la barca la vedi ti metto il punto hai prenduto qualcuno qua e tu no no dietro di voi sono tante il radio eh raga prendiamo le macchine lomba allora qui qui non possiamo andare qui non possiamo andare potremmo provare qua ma è rischioso quindi la cosa è o andiamo dall'altra parte ma ci potrebbe essere tanta gente o andiamo a piedi e ci prendiamo in questa casa ci stanno spostando a quelle case regali facciamo ora stanno uscendo ora non so che siamo qui qualcuno mi riesce a coprire e vedere se qualcuno mi pusha il benzinaio sono dentro merda va bene tutti e due a sinistra picca dalla finestra picca dalla finestra aspetta e tiro la granata uno vai entra sono low vai one shot vai vai scusami scusami non lo potevo sapere scusami 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 è un po' strano raga sono sopra eh raga pensavo che dentro avessi cercato per quale eh io pure io pure pensavo che dentro avevamo cercato raga scusate mi ho sbagliato io eh io ero d'altra parte come facevamo a ceccare dentro eravamo fuori eh io pensavo che ci avevate visto dentro scusate raga errore mio ho dato per scontato ho sbagliato raga la macchina una era distrutta e non lo sapevo stanno getta piedi getta piedi a 3,45 3,45 strada ora e da solo raga lo farei io lo farei tre colpi ho dato quattro colpi noccato sta crossando la strada bravo tanto l'ammazza la zona l'ammazza la zona guarda se ci sono i compagni lomba che arrivano late sto guardando tutto un occhio si si no ma ancora lì da solo no muore ho dato la kill dietro la roccia di fratteggio? non la bush non la bush quella dopo quella dopo quella lì quella lì mi voglio tankare la zona così anche a sinistra hai due team hai due team un team e poi l'ha stato pigiato c'è uno che striscia a fotti la kill a destra a destra a destra dell'albero no un po' più a sinistra aspetta lomba alla tua destra c'è uno che striscia 0 2 secondi devo buttare dietro la bros mi uccidava quello della roccia mi aiuto la kill vabbè brutto score quest no ma qua ti si vede il tuo ragazzi ragazzi è stato aggiornato oh yeah baby aspettate zitto 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 eh vabbè stava aggiornando ragazzi guardate bene i punteggi secondi è il momento della canzone raga secondi boys e ora la mettiamo la canzone aspettate metto la song aspettate sentite la streaming poi e ora i tinder gold erano quarti e sono passati come quarti ragazzi abbiamo abbiamo il doppio dei millennium poverini easy dopo chi è che c'è allora qua bisogna qua bisogna dire una cosa wash abbiamo fatto una settimana fa il team l'abbiamo disbandato siamo ripartiti da zero abbiamo cambiato la strategia e il modo di giocare abbiamo preso l'omba che non ha tante ore quanto io non ha mai giocato tornei su questo gioco abbiamo avuto una giornata di merda che grazie a quella giornata non stavamo per entrare all'interno del contenders e sapete cosa? ci siamo entrati nel contenders all'ultima partita con 33 game all'attivo ci siamo entrati nel contenders come quinti e ora siamo passati al contenders come secondi al playoff easy